Il paleggio è un'opportunità assolutamente da non perdere per chi viene comunque nella zona del lago di Garda perché abbiamo a livello architettonico, culturale, delle meraviglie incredibili. Il parco Giardino Sicurtà, Borghetto che è una location romanticissima, la ristorazione, l'enogastronomia perché comunque sia a livello di tortellini, vini, qualsiasi cosa che c'è a Valeggio è fatta bene ed è fatta con amore. Io sono fortunatissimo perché comunque a fianco a me abbiamo le colline moreniche, abbiamo il lago di Garda a due passi, abbiamo Mantua, abbiamo Verona che sono a parità di distanza per cui la fortuna di essere a Valeggio oltre ad essere in un posto meraviglioso è proprio il fatto di abitare a Valeggio. È difficile portare tutto quello che viene prodotto a Valeggio perché comunque dalle pesche a mandorle a qualsiasi altro prodotto vino è difficile introdurre dentro tutto, dentro la pasticceria però il fatto proprio dell'ambientazione, del contesto, il parco Giardino Sicurtà, il castello vediamo di far ricordare e rivivere queste cose in tutti i nostri prodotti anche perché chi viene a comperare da noi, di solito un giro a Valeggio se lo fa ed è giusto anche che se lo faccia. La dolcezza di Valeggio di sicuro per chi viene qui da noi è qualsiasi cosa che trova qui in pasticceria da me. Il fatto che viene creato qualsiasi cosa con veramente amore, la passione che c'è dietro viene fuori proprio perché ce la mettiamo tutta. È un qualcosa che è intrinseco probabilmente nel Veneto, il fatto di alzarsi la mattina e essere contento di andare a lavorare quindi questa cosa traspare, traspare dal prodotto.